Mancano pochi minuti alle 12, l'intervento in via Ascari praticamente ormai è completato, si sta riempiendo anche lo scavo, un intervento industriale particolare, un tubo complesso, ma i dati che arrivano in questi minuti sono incoraggianti, l'acqua sta tornando. Sì, i dati sono incoraggianti in quanto abbiamo riaperto la tubazione in uscita dal serbatoio e abbiamo in questo momento 390 litri al secondo che stanno uscendo. Questo significa che siamo riusciti a contenere la quantità di aria all'interno delle tubazioni, cioè l'assenza o quasi di aria all'interno delle tubazioni e quindi un ripristino del servizio in città in maniera più rapida. È stata una lunga notte, piena di tanti imprevisti, valgono come promemoria per la nuova società, per gli spagnoli, perché da qui bisogna ricominciare. Sì, in effetti è andata così, però devo dire che la nuova società, valida per quanto possa essere, utilizzerà maestranze e personale altamente qualificato con esperienza di oltre ventennale che sa dove mettere le mani e questo è oro per la nuova società. Tra l'altro però non si aspetterà che arrivi la nuova società per un primo intervento, già come amministrazione, come comune, vi siete messi in moto altri 8-10 giorni e qui si torna a scavare, ma questa volta per sostituire 800 metri lineari, cioè quasi un chilometro di tubatura. Già da fine settimana prossima arriveranno le prime quantità di tubo ordinato, un tubo del 600 con un rivestimento in neoprene che garantisce anche la corrisione delle correnti galvaniche che ci sono giusto in questa zona e quindi sono correnti che perforano la tubazione, quindi è uno strato di protezione. È un intervento importante che richiederà parecchio lavoro, un lavoro altamente qualificato e chiaramente comunque sarà un intervento finalmente risolutivo. Verrà fatto nottetempo per, immagino, per limitare i disagi? Questo senza dubbio, cioè si opererà a tranche ma verrà reso e fatto con interventi che creeranno meno disagio possibile per la cittadinanza. Completato questo intervento dovrebbero diminuire gli incidenti che qui in via Ascheri, ci sono pochi distanti anche le centrali di sollevamento, sono diventati purtroppo frequenti? Quello che riguarderà questa tubazione verrà scongiurato. Grazie a tutti.